Ma buongiorno a tutti, io vi direi un buongiorno, oggi un po' in ritardo, anzi un pochino tanto in ritardo andiamo a vedere le report di TikTok del mese di febbraio io il video lo sto registrando il 14 quindi sono in ritardo di due settimane però vabbè dai scusatemi mi auto perdono, facciamo così comunque questo è il report e io direi di iniziare subito alla grandissima con appunto vedere le visualizzazioni dei video che come possiamo vedere sono 2 milioni e 100 mila visualizzazioni in un solo mese che comunque sono tantissime a parer mio, le considero sempre sempre tante però si può notare che sono un 20% inferiore rispetto ai 29 giorni precedenti cioè comunque c'è stato un pochino un dislivello verso il basso, niente di troppo preoccupante anzi 2 milioni è comunque un risultato molto molto nobile perché non spesso e credo che il risultato migliore sia stato 2.9 quindi in realtà poco più alto di questo comunque lo considero appunto un gran bel risultato il numero di volte in cui gli spettatori hanno visto i tuoi video nell'intervallo di tempo selezionato ok poi andiamo subito di fianco che sempre con una diminuzione del 21.9% quindi si ha sempre lì più o meno le visualizzazioni del profilo ah e un'altra cosa che vorrei notare nelle visualizzazioni video è come più o meno si ha quasi sempre costante tranne due o tre picchi tipo qua c'è un 200.000 visualizzazioni in un solo giorno 128.000 e 173.000 poi vabbè va un po' alti e bassi dipende anche molto da quali post ho fatto molto probabilmente quanto sono piaciuti eccetera eccetera come vedete i picchi più bassi sono di 15-17.000 che comunque 15.000 visualizzazioni nei video in un solo giorno io non le repeto comunque poche andiamo avanti con le visualizzazioni del profilo che segue l'andamento appunto delle visualizzazioni video più o meno i picchi sono sempre gli stessi in realtà e la stessa cosa vale per i mi piace dove c'era il picco alto nelle visualizzazioni c'è il picco alto anche nei mi piace sotto invece c'è una cosa un pochino diversa cioè i commenti e le condivisioni che sono aumentati cioè con una diminuzione del 20% più o meno delle visualizzazioni i commenti sono aumentati del 15% ok e come vedete i commenti invece non seguono l'andamento delle visualizzazioni e questo perché come sempre ci sono dei video che appunto generano più commenti questo magari molti di voi non lo sanno ma di base ci sono video che magari ti fanno 5-6 commenti anche se hanno 20.000 visualizzazioni mentre un video con 2.000 visualizzazioni magari ti fa 100 commenti perché appunto è impostato per invogliare chi guarda il video a commentare quindi diciamo che questo varia veramente tanto come vedete i picchi non seguono le visualizzazioni dei video sono molto a sé stanti le condivisioni invece si alternano ancora di più e infatti vediamo che hanno dei picchi addirittura differenti dai commenti va bene da notare come l'8 febbraio è stato forse il giorno peggiore in quasi tutti i report il 28 febbraio si va bene il 28 febbraio è stato il giorno peggiore in tutti i report confermato e spettatori distinti numero di persone che hanno guardato i tuoi video 1.6 milioni che io lo ammetto è un numero spropositamente altissimo io vi ringrazio è un numero troppo alto 1.6 milioni di persone hanno guardato 2.1 milioni di miei video io direi che non è male non è male andiamo a vedere i followers va bene vi ho impostato la pagina dei followers per quanto riguarda febbraio e per chi non avesse visto gli obiettivi del 2024 l'obiettivo era arrivare a 200.000 followers su TikTok e più o meno avrei dovuto ottenere una media di 12.000 followers al mese su TikTok che sì sono 12.000 followers al mese sono tantissimi questo mese in realtà parto già con dire che sono arrivati 10.000 nuovi followers e benvenuti a tutti i nuovi benvenuti che comunque sono tantissimi 10.000 followers ma sono comunque 2.000 in meno rispetto all'obiettivo imposto e parto anche col dire che il marzo forse adesso siamo a 1.000 in metà mese quindi in realtà l'obiettivo di 200k entro fine anno la vedo molto dura però comunque è un buonissimo risultato aver fatto 10.000 o anche solo 1.000 con una partenza di 72.600 followers sono arrivato a fine mese con 82.300 cioè un incremento di 10.076 followers i dati sotto invece sono sempre gli stessi più o meno più o meno 42% donne 58% uomini l'età dai 18 ai 24 quelli che mi secondo di più e nazioni Italia banalmente perché parlo italiano in tutti i miei video questo direi che è il solito classico grafico e io ribadisco che va bene non sono arrivata ai 12.000 followers mensili quindi l'obiettivo dei 200k si fa sempre più lontano però lo reputo comunque un buonissimo risultato io vi ringrazio banalmente uso sti 3 secondi per ringraziarvi veramente tanto e per concludere tutto 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 andiamo a vedere le live mi sono spostata al centro perché quello che voglio far vedere principalmente è la durata totale delle live che ho fatto banalmente nel mese di febbraio ho fatto due giorni e sei ore di live complessive come possiamo vedere banalmente sono andato dalle tre ore di live al giorno alle un'ora un'ora scarsetta il minimo diciamo che di base però almeno due ore di live più o meno le ho sempre fatte un'ora e mezza e due ore diciamo che oscillavamo qua e le visualizzazioni totali delle live sono state 319.000 questa era una cosa veloce che volevo farvi vedere giusto per contestualizzare anche un po' le live e comunque sì il picco più alto è stato di 3 ore ma anche il 2 ore 45 non scherza è un 2 ore 41 e 2 ore 41 di nuovo ok va bene diciamo che sono soddisfatto del tempo che ho passato in live sì è tanto tempo che passo in live come sempre però dai sono contento di averlo passato mi sono divertito a farle e spero mi siate divertiti anche voi a guardarle comunque io vado vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto e voleste aiutare con un click e seguirmi grazie sareste gentilissimi e io vi auguro una buona giornata un salutone